A me succede che per tutto il giorno in casa resto con la famiglia intorno, ma ogni notte lontano posso andare nel paese dei sogni per sognare. Esploro quella terra sconosciuta dove nessuno mi vede o m'aiuta. Il sogno mi porta in riva ai torrenti o tra le montagne percosse dai venti. Ho tante cose strane da guardare e tante cose buone da mangiare e quante volte mi sono spaventato ma poi mi sono sempre risvegliato. Di giorno invece è proprio impossibile trovare quel paese invisibile. E nessuno mi fa riascoltare la musica che mi ha fatto sognare.